buongiorno a tutti eccoci qui in questo nuovo video acquisti per la 300esima volta purtroppo scusatemi se faccio tanti video acquisti ma ve lo ripeto ogni volta sto facendo degli acquisti per andare in vacanza 5 agosto e quindi siccome che non prendo tutto in una volta vi farò questo video un po' scaglionato vabbè comunque bando alle cianci e iniziamo subito sono andata al mercato del paese e ho acquistato delle cosine per me quindi vi mostro subito ho acquistato un costume intero se vi fa vedere ok è blu con tutti i fiori bianchi è un costume intero e dietro si allaccia e sia la schiena scoperta insomma è molto carino e poi ho preso anche uno a due pezzi questo è il sopra così questo così che è blu con tutti questi fiori bianchi e stesso ai pantaloncini molto belli e questi li ho pagati 15 euro a costume poi sempre al mercato ho acquistato dei vestiti ho acquistato questo fatto così non ce la posso fare a prenderlo bene ok aperto in questa maniera sopra e a questa fantasia così molto bella è sul blu e l'azzurro è un vestito lungo questo penso che lo userò magari per uscire alla sera o perché per andare per usarlo come sopra costume mi sembra un po sprecato perché molto mi piace molto sinceramente e poi ho acquistato questa cannottiera così con tutti questi fiori che è sempre blu e dietro c'è il pizzo molto carino anche questa e per finire sono andata a un negozio qui vicino a casa mia che è il c il c z g quindi ho acquistato un'altra maglietta per me sì sono fissata con il blu l'azzurro se ci fate caso compro spesso per me soprattutto code tendenti sul blu l'azzurro perché non riesco a fare a meno perché il mio colore preferito e quindi questa sempre cannottiera così e dietro con il pizzo così che mi piace tantissimo e questo l'ho pagata tipo 5 6 euro poi sul verde acqua ho acquistato questo costume a 4 euro cioè con i saldi 4 euro è pochissimo che è praticamente così con tutte queste frange in fondo ed è mi piace molto soprattutto il colore poi ho acquistato questo che è un salvagente questi tipi con i ferellini per la mia bambina poi io ho comprato anche i braccioli ho comprato il cleaner per fare la ricostruzione perché prima di partire dovrò fare la ricostruzione e se vi interessa di vedere come le faccio scrivetelo qua sotto così vi giro anche un video mentre mi faccio la ricostruzione perché guardate che mani schifose ovviamente mi sono comprata anche due foglietti di adesivi con i disegnini per le unghie qua ci sono le stelline vediamo se resto a farlo da vedere si si vede più o meno e le ho pagate 99 centesimi e qui ci sono tutti i fiorellini molto belli belli sempre 99 centesimi tutti e due poi vabbè qui c'era la qui c'era la collana questa collana qui che era insieme alla maglietta con la blu mettiamola qui poi ho acquistato la maschera nera a 3,49 euro e poi la proveremo insieme in un video visto che da me meno di 5 euro non le ho trovate la andremo a provare insieme spero presto di farvelo vedere com'è in un video spero molto presto perché sono molto curiosa di provarla sinceramente poi ho acquistato tadaan due slime uno si chiama che schifo è di buon auspicio direi e l'altro noise slime con un sedere disegnato e anche questo è di buon auspicio questi due slime li andremo a vedere in un video a parte quindi restate sintonizzati per vedere come saranno questi due slime e niente per il momento sono tutti qui i miei acquisti mi manca ancora qualcosina da da comprare ma ci siamo alla fine siamo arrivati e niente penso di quindi molto presto arriverà un video con la mascara un video con gli slime se volete un video dove vi mostro come mi faccio le unghie scrivetemelo qua sotto e sarò felicitima di farlo appena le farò e niente se avete non lo so se volete che vi faccia poi più avanti un video di come realizzo la mia valigia per partire cioè tutto ciò che ci metto dentro magari scrivetemelo qua sotto e appena la farò vi farò un video e poi ve lo caricherò e niente se avete qualche domanda scrivetemelo qua sotto qualsiasi cosa io sarò felicissima di rispondervi spero che questo video vi sia piaciuto se è così lasciate i commenti like iscrivetevi al mio canale per rimanere sempre a giocare sui video e vi mando un bacio un abbraccio e noi ci vediamo al prossimo video ciao